Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Finalmente abbiamo il report per quanto riguarda il YCS di Bologna Il report che in realtà volevo assolutamente fare perché è il primo che faccio per un torneo italiano Cioè per un YCS italiano, quindi ero veramente in hype Anche perché chi ha vinto, che lo conosciamo tutti ovviamente Ha portato un mazzo che oltre a rompere il culo Credo che verrà colpito secondo me Più che altro è Runic, verrà colpito tra l'altro bellissimo perché Un Runic dalla top 64 a vincere Uno ce n'era, uno ce n'era, uno ha vinto Come possiamo vedere un Runic, 7 Rescue Ways nella top 64 6 Labyrinth, un Despia, 8 Tier Lamens, un Infra Noble Knight 4 Fire King che si sono già, hanno già iniziato a imporsi un pochino Mikanko pure le Centurion, Vankish Soul in 2 Chimera 1, Kashira 1, Unchained 1 E il resto, boh, non se ne sa però erano comunque tanti E diciamo che per la top 4 sono arrivati a Runic, Rescue Ways, Labyrinth e Despia Comunque alla fine è stata un meta molto molto vario Tra l'altro, oltre ad avere le profile, c'è stanno i prezzi Dici perché giochi, perché non giochi con peti di piano Oltre a non essere buono, non c'ho manco sti budget Quindi, io direi, prima andiamo a vedere Vabbè, il primo e il secondo E poi, il primo non c'è, per vedere la lista del primo Il panico, perché veramente Ma tanto c'è voluto Per vederla Però, ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Bistial Runic Di incredibile potenza vera Che ha vinto In rimonta Quindi veramente Era partito, abbiamo perso 1-0 In finale Poi, ribaltone 2-1 Con un deck che Già a Stegar sono tutte schizzate Sono tutte schizzate Anche il Bistial Aluber Addirittura ha giocato Credo che sia un deck Almeno per quanto riguarda Quanto riguarda la mia grandissima ignoranza Ma mai me lo sarei aspettato Cioè, mi sarei aspettando RunicStan Una roba del genere Ma così Mai Poi, dualità Che comunque era da un bel po' Che non si vedeva qua in 3x Ci ha fatto il panico Fontana Runic che continua ad essere una roba assurda Perché comunque ha troppo vantaggio a guardarti Ti consente di castarle dalla mano Cioè, castarle Linguaggio di Magic Castarle dalla mano Le fa giocare dalla mano Cioè, è veramente qualcosa di assurdo Poi, pure i Bistial per me Io l'ho sempre detto Secondo me li vanno a limitare tutti quanti Diventano tipo i pezzi di Exodia Perché sono veramente fortissimi anche loro Con anche la magia continua Che ti fa pescare a rotta di collo pure questa Cioè, è assurdo Per me è assurdo Poi, ovviamente Side deck Contra colposa Che c'è praticamente ridotta Anche i Phantasmus Bay Ovviamente Quindi diciamo che Vittoria meritata? Secondo me sì Secondo me sì Anche perché Ripeto Uno ce n'era E Uno ha vinto Poi non vorrei fare il Falmobile Però comunque Come giocatore è forte Quindi Credo che i risultati parlino Per Per lui Quindi Veramente Veramente Molto molto forte E poi qui abbiamo Dovrebbero vedersi tutte Bene Comunque le carte Perché l'inquadratura Dovrebbe essere giusta Se non è giusta Chiedo Umilmente Venia Che è arrivato secondo Che ha giocato ovviamente Un classicissimo Tra virgolette Rescue Ace Di Ballestar Che Comunque rimane Uno dei mazzi più forti E Continua a dimostrarlo Come possiamo vedere Comunque Quel bastardo Di Trante Perché ce l'hai tanto Con i Trante Sì Pochino Però insomma Come possiamo vedere Lì sta abbastanza Classica Ma ho apprezzato molto Che avesse le robe comuni Davvero proprio giocatore Sono stato molto contento Poi ovviamente Il prezzo delle carte È anche influenzato Da lui Da 2000 euro di lui Fra poco Quindi diciamo Che veramente I mazzi purtroppo Hanno questi Questi prezzi qui Tra l'altro Credo che il più economico Sia l'unchained Dell'Ishun Wu Che ho pronunciato Ovviamente male Perché l'ho pronunciato Sicuramente male Ovviamente Non mi si carica niente Eccoci qui Come possiamo vedere Vabbè più o meno La lista che abbiamo Comunque imparato A vedere No Sempre Questa qui Classica Insomma Con anche Ripartito Ddd Ok Forse questo video Sarà un pochino Più Lungo Rispetto agli altri Perché bisogna fare Un pochino di cose Poi c'è il Cash Tira Cash Tira Con un costo Mezzo millino Rescue Ace Questa è la top 64 Abbiamo un Fire King Nella top 64 Anche questo Che costa Le famose Sette piotte Labyrinth Fire King E 4 Di Arlaments Io vorrei prendere Vabbè sono tutti Orus Di Arlaments Andiamo a prendere Quello che costa De meno E quello che costa De più Allora Per Cash Tira Cash Tira Che comunque E' la seconda volta Che lo vediamo Che fa comunque Dei risultati Abbastanza buoni Ok Quindi Niente da dichiarare Non è stato così Oppressivo Come si pensava Comunque c'erano Degli out Abbastanza Importanti per lui E quindi Ok Diabelle sta Rescue Ace Questo invece Non si è imposto Ovviamente poi Sta anche nel matchup E nella fortuna Perché io non li ho visti Tutti quanti i match Quindi Non so effettivamente Come Non mi ricordo neanche Contro che ha giocato Effettivamente Quindi ok Però ci può stare Che comunque Non Non si fanno Top Cioè non tutti fanno Top Alte Diciamo Poi abbiamo Un Fire King Che si è imposto In una top 64 Sinceramente Ok Perché non mi aspettavo Facesse più di così No La prima botta Io non mi aspettavo Che andasse tipo A vincere O a fare Top 4 Semifinali Qualcosa del genere Però comunque Il mazzo C'è Il mazzo C'è Bisogna vedere poi Come In base anche A come girerà il meta Insomma Come si comporterà Però Ovviamente Già si è fatto sentire Naturalmente Questa è la versione Più forte Con le guante Quanto 85 è Mi lasciamo per Ho visto Che sto schizzato Mamma mia Lasciamo Stà Cioè se uno Dentro un box Ci trova due De queste Inizia a Sartella Per aria Poi Unchained Labyrinth Questo La versione Dai 300 dollari 100 Solo di lui Chaos Angel Chaos Angel Sta un pochino Mortacci Cioè fondamentalmente Il mazzo costa Perché ci sta Little Night Chaos Angel E due Typhoon Typhoon Per il resto Apprezzo Io apprezzo Molto questo Da Roma Karma Cannon È infame Bastanto Però io apprezzo Apprezzo Poi abbiamo Snake Eye Di Avela Star Fire King La mia mente Quando ho detto Snake Eye Ha letto Rescue Ma Io non ci Allora Una cosa Che a me Non piace molto È il Barong Singolo Questa è una cosa Che ovviamente Non piace a me E dato che io Faccio più schifo Di loro Ho torto Però a me Il Barong Singolo Non piace Però ovviamente Cioè Voglio dire Puoi andare A togliere Soltanto il Barong Effettivamente Puoi andare Soltanto A togliere Il Barong Il resto Non puoi Andarlo a toccare 3 Super Poli Ovviamente Di Side 3 Skill Train Ci stanno tutte Eveli Assolutamente Best carta Tra l'altro No tra l'altro Stavo pensando A qualche Qualche Altra carta Da mettere Nel mio Perché il mio È una versione Budget Però ho Molte carte Divaghiamo Poi abbiamo Destiny Danger Charlaments Che questa è la versione Più economica Tra virgolette Ecco Tu Io non mi ricordo Che Ok Perché non mi ricordavo Che cavolo Facesse Sta in tutte le liste Ma non mi ricordavo Che cosa Ora lo so Ora lo so Vedete È utile andare qui Perché così Poi mi ricordo Gli effetti Legati Rescue Deve essere effettivamente Buttato giù Anche perché I massimili Yugi Sono qualcosa Che ci hanno senso Non ci hanno senso I massimili Yugi Non ci hanno senso Nel runic Che te le va a bande Di coperte Né questo Che fa Il robe Non Economi Quando li ha fatti E non si è regolata Moltissimo Con il power level Poi vabbè Ovviamente Come possiamo Vedere La manza Horus Come in serie Va bene Lei che ti ricicla La roba Te le rimette Così poi te le fai immaginare È bello Che culo Che culo Vabbè Ci sta Ci sta Comunque Il mazzo Che abbiamo Ripeto Abbiamo visto E rivisto Un botto di volte Ok Questo l'abbiamo visto Poi andiamo a vedere Nella top 32 Abbiamo Un altro Fire King Voglio vedere Un attimino Se Ok Volevo vedere Se magari Non erano gli stessi Vankish Soul Labyrinth Centurion Purely Rescue Ace Tierlaments Un Fire King C'è anche nella top 16 Ok No in realtà L'ha fatta abbastanza alta Perché me ne ricordavo Che ha fatto Un po' più scarso Vabbè Va bene Ok Quindi vediamo le top 32 Con di belle star Fire King Anche questo Comunque Lista abbastanza Classica Più o meno Si le carte Sono comunque quelle C'è chi gioca Più Fenrir Più meno Fenrir Più o meno Però insomma Le carte Nei main Sono quelle Riparto Fire King Che si limita A queste qui E poi C'è ovviamente Ripartimento di belle star C'è chi Mettere super poli Di main Chi di side Però Insomma Ci sta Ci sta Perché comunque I target sono quelli lì Magari Avendola Di main Sai che Puoi sfruttarla meglio Perché comunque Le combinazioni Cioè I mazzi Sono quelle Però Pure di side Per me Anche un pochino Meglio Però vabbè Monkey soul Monkey soul Ok in realtà Non me l'aspettavo Troppo Però Ok ci può stare Perché pure Questo è un masso Abbastanza Abbastanza forte Comunque Monkey soul Ok Ok Stiamo nella top Ok Non mi ricordo più Che Se è la top 32 Top 32 Chiedo scusa Top 32 Ok No ci sta Ci sta Perché comunque È stato raro Trovarli Però Fondamentalmente Il mazzo Comunque Non è scarso Anche se Anche se Costa una quaresima Però Ok Poi Abbiamo Unchained Labyrinth Unchained Labyrinth Che non me lo so Ok Pensavo di essere Di avermelo Flesciato No Unchained Labyrinth Tra l'altro Labyrinth Nessuno Oppressivo Con Tutti I floodgate Quindi ok Diciamo Sono stati Abbastanza onesti Perché Tra la fine Pure Guerrini Che non era Stun Poi abbiamo Sprite Purely Sprite Purely Molto Molto Carino Sprite Purely Molto Molto carino Più o meno Più che altro Quando giochi meta I mazzi Sono tutti Questi Quindi di carino Non c'è Molto Poi Rescue Diabellest Ovviamente Che si conferma Comunque Essere uno dei mazzi Più utilizzati Come abbiamo visto Ehorus Destiny Tier Lamens Ok Ok Comunque Anche questo Con i list Perfetto 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 Super Poli Di side Ci sta Ci sta Anche se Magari il mazzo Lo può sfruttare Molto meglio Però di side Ci sta Ok Ripeto Sempre Io parlo Dall'alto Questo Era il secondo Parlo sempre Dall'alto Della mia ignoranza Quindi se dico Cappellate Nei commenti Ovviamente Poi Rescue Ace Questo 1100 Mi pare Un po' Esagerato Va bene Però Mi pare Esagerato Poi Vabbè Top 16 Con Ok Eduardo Porta Che Porta Scusami Un Tier Lamens Quindi Diabelle Star Rescue Ace Eccolo Qui Tra l'altro Ci sono anche Le statistiche E no In realtà È bellino Vederelo Da questo Diabelle Star Micac Da 1000 Euro Cioè Ovviamente I prezzi Sono fatti In dollari Però Il sapere Più o meno Varia un po' Perché Varia un po' Ma più o meno I prezzi Sono quelli Quindi La Little Ok Sono dubbiote Azzel Syncrono Un'altra Quarantina D'Euro Mikanco Una quindicina Si La Wanted Altri Reni TTT Altri Reni Mamma mia Altri Reni E Eh Questa è una bella Una bella carta Angelica Te va a negare le spell Quindi Quindi E' buono Tra l'altro Nella versione italiana C'è scritto Puoi distruggere questa carta Quindi effettivamente Credo che sia opzionale Non lo so In inglese Delle volte Sono un po' Più criptici Noi abbiamo Delle traduzioni Del cazzo Delle volte Però non lo so Più criptici Tipo l'errata Che vi dicevo Del calamity Che in italiano Non cambiamo un cavolo Perché era scritta giusta Comunque Un Mikanko Che fa top 16 Ti vorrei dire Buono Ma per 1000 euro Poi ti sbaglio Magari i prezzi sono Uh Delle parute Che bella questa carta Mi piace sempre un sacco E poi ovviamente Sempre tier Tier Che rimane comunque Una punta di diamante Del meta Perché Sta sempre lì Top 8 Doppio labyrinth Tier laments E poi Abbiamo finito Quindi Un doppio labyrinth Ecco Non tralasciando Quel cannon Che comunque Cambia la posizione Dei mostri Però comunque Ti fa giocare Il resto Onestissimo Il resto Onestissimo Madonna Dretta Madonna Dretta Raga Ovviamente Se rida Perché Magari sono un po' Scioccato Da scelte Che sono sicuramente Giuste Perché è arrivato A fare i top Quindi Sono giuste Però Scripio Scripio Vedete L'ignoranza mia È simpatica L'ignoranza mia È simpatica L'aprint L'aprint Con mudore Che sta Che va a togliere Anche le carte Del cimitero Lop Quindi Va bene Va bene Ok Triple chaos angel Mamma mia E comunque Si è Tralasciando il virus Che alla fine del virus Non è più Sta grande Cosa pericolosissima E una barriera dimensionale Una sola Bene Cioè alla fine Di side Ci stanno ste tre Va bene Ci sta Ci sta E per finire Abbiamo questo sciso Tierlamens Ok Sempre l'ho distrutto Sempre va bene La lista Cosa qui Davvero L'ospodente Bamut Ci piacciono Non ritrovarci Le contro Però ci piacciono Vabbè Ovviamente Un grafo Ovvio E abbiamo Il barricade Borg Blocker Che ovviamente Come sempre Ho nominato Male Quindi Questa Era La panoramica Del YCS Di Bologna Abbiamo finalmente Tutte le liste Io faccio ancora I miei complimenti Per questo mazzo Che Non me l'aspettavo Proprio Tanto di appello Fatemi sapere voi Cosa pensate Ovviamente Noi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto a tutti